Buongiorno a tutti e benvenuti ad Agorà, una settimana dall'entrata in vigore. Come sta andando il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori? Intanto la politica rifiuta per Draghi. Buongiorno a Francesca De Benedetti, firma di domani. Scioglimento, che si farà secondo te? Ma c'è una merita al colle, quindi visto che parliamo dopo del partito di Draghi, Draghi a Palazzo Chigi e Berlusconi al Quirinale. Per due anni ti è venuta del partito con la prima immagine di Green Pass, che doveva tornare oggi, ma anche la città italiana con l'incidenza più alta di contagi. Lì per noi c'è la nostra Alessandra Buccini. Green Pass è stato effettivamente revocato per rischio di infiltrazioni di frange violente. Si diceva, lo dicono i giornali, gruppi violenti da tutta Europa. L'invito a non partecipare alle proteste è il nostro Marco Carrara. La proteste è allora, è passata una settimana dall'entrata in vigore di questo Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, tra proteste che comunque proseguono, sia pure meno di prima, vaccinazioni che hanno avuto un incremento iniziale, un effetto Green Pass, però adesso sono in calo le prime dosi. E certificati medici, c'è l'allarme di finte malattie. Che bilancio fate? Parto da Sandra Zampa. Ricordiamo anche che l'oltre il 85% della popolazione italiana ha ricevuto una o due doni. Parliamo di una percentuale assolutamente minoritaria, e anche sulle proteste, quindi anche noi, Galli, perché voi avete difeso, Salvini lo fa ancora in queste ore, chi protesta, qual è il suo bilancio a una settimana, se si deve continuare sulla strada di questo Green Pass, perché le due posizioni, insomma, sono abbastanza confliggenti, e in questo prendere due posizioni c'è anche il risultato elettorale. Cosa che dicono anche gli elettori di Forza Italia, che avete pagato in queste elezioni la posizione a oggi sul Green Pass, perché l'avete votato, approvato. Dice che siamo a favore, infatti ci hanno dato 80 sindaci in più, tant'è che non hanno capito. Va bene, basta, dica quello che vuole. Dopo l'elenco dei comuni in più che abbiamo a Roma, io ero lì per 40 minuti in 30 persone in 3 metri quadrati, lì il Green Pass non serve. Dalli, voglio darle ragione, perché lei cita un sondaggio di Masia di una settimana fa, io le faccio vedere un sondaggio di questa settimana, a proposito delle manifestazioni no Green Pass, il cartello numero 43. Allora, però mi devi lasciarci dire quello che stavo dicendo. No, ma glielo faccio. Bisogna continuare su questa strada, nessun ricorso all'obbligo vaccinale, neanche come estrema razio. Ma io non sono così netta. Il punto è che dovremo convivere, dovremo convivere con restrizioni e con Green Pass. Tanti come Francia e Germania che vanno perplessità, anche perché in quel... ...anche sull'obbligo vaccinale. Io non sono al governo, io se... Buon inizio, mettiamola così. Però è anche un po' dopato, perché include le vaccinazioni... Green Pass nel Cinto d'Esta, soprattutto di Fratelli d'Italia, ma... Ha creato qualche tensione. Chiamo per tutti tra dicembre e gennaio, no? È scritto oggi sul Corriere della Sera, verso la terza dose anche per gli anni 60. Per adesso noi pensiamo... ...è un successo straordinario in questo caso. In Europa nessuno ha il tasso di vaccinazione. La situazione sanitaria tra contagi, ricoveri, morti... ...le misure di sicurezza. In questo senso il Green Pass... ...dietro cosa ha detto il Premier Draghi in Parlamento a proposito dell'allarme inglese. Eh sì, lui... ...deve fare il tampone ogni 48, 72 ore. La linea del governo decisa è stata quella di proseguire. Pagano i lavoratori, lei, voi della Lega, siete d'accordo su questo? Qui, perché adesso io voglio andare anche sulle riflessioni che stanno facendo i partiti in queste ore. Dopo il voto amministrativo c'è una bella bomba brunetta per anche voi della Lega oggi su Repubblica. Un nuovo centrodestra lì dai sovranisti. Però noi mandiamo la sigla. E subito dopo il nostro Tommaso Giuntella ci racconta cosa è successo in particolare nella Lega ieri e anche nel Movimento 5 Stelle. Guardate. Il Partito Democratico dovrebbe innanzitutto guardare per, ha detto, mai alleati con Calenda e Renzi. Guardi, io credo che non si possa cominciare. Questa è un gioco di parole, però... ...per lei, Galli, perché sembrava si fosse ricostituita una unità che oggi a Repubblica dice ci vuole un nuovo centrodestra, liberiamoci dei sovranisti, il sovranismo possono ricostruire l'Italia con drà. Però Daletta, Conte, Calenda e Renzi possono mettersi insieme e magari attraggono anche Brunetta, Lupi, Toti. Ha detto io voglio fare di questa città la città e vedo questo progetto piuttosto incongruente invece con figure come Renzi. Ma il passaggio dallo Stai Sereno all'Alleanza con Renzi la vedo... ...perché è in corso il Consiglio europeo, è collegato con noi Donato Bendicenti. Buongiorno Donato. Allora... L'Europa sui diritti si confronta, nel senso che evidentemente ci sono due posizioni. Una posizione... La Commissione europea ha il nostro documento programmatico di bilancio perché lo scheletro della manovra, qui si discono i temi caldi, reddito di cittadinanza e pensioni, cioè superamento di quota 100. Ma francamente è buona, anche l'altro giorno Paolo Gentiloni a Strasburgo... ...perché con lo svolgimento dobbiamo ancora vederlo nel dettaglio per alcune cose. Intanto ti ringrazio da sciogliere Carlo Galli. Non so che complicato è proprio quello del superamento di quota 100 che per il momento è stato rimandato. Quota 102 per il 2022, quota 104 per il 2023 per evitare il ritorno alla Fornero, Galli. Ma difatti non dimentiché... E' stato approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Con molta critica da parte di voi. E' bello. A proposito di reddito di cittadinanza, che è un altro tema di discussione, così coinvolgo anche gli altri, anche su quota 100, perché mi sembra zampa che la Lega non sia così. Vedremo ancora. Sul reddito di cittadinanza vediamo, partì a conto al nostro Carlo Bravetti. ...vere e dopodiché però gli italiani... ...addirittura lui oggi, dopo pranzo, quando finisce il Consiglio europeo... ...ultimo Consiglio europeo di Angela Merkel, purtroppo... ...cito che si discuta di questo. Quindi quello che Angela Merkel ha fatto... ...esattamente. Allora, però voglio andare, perché voglio sapere, tornare alla manovra, almeno ai titoli, insomma, al documento programmatico di bilancio. Zampa, sul reddito di cittadinanza, voi siete favorevoli anche alla partita però delle pensioni, perché mi sembra che la Lega, ce l'ha detto Galli, insomma, prepari battaglia... ...verso il 103. Ah, infatti, la via di mezzo... ...però, detto questo, io il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà. Mi faccia però anche tornare... Ma questo ci viene riconosciuto dal suo reddito di cittadinanza, anche per me, per i guardi dei paesi europei, ce l'hanno. Ma assolutamente, anzi, mi sembra che sia stato chiarito dall'Europa che è un provvedimento... ...vattute a parte, grazie davvero. Un ospite a cui teniamo moltissimo e Marco, come la introduciamo? La questione di giustizia ha scritto a questa peculiarità... ...era morto per colpa della sua famiglia, ma che era morto perché da se in poi la giustizia mi ha dimostrato che veramente poteva essere... A far emergere la verità, quella che era chiara ai nostri occhi, a occhi di tutti... ...e come dire, portare un messaggio positivo. Sì, sì, comunque... Queste sono cose gravissime che... Ma questo non è una questione di principio, è proprio perché... ...ha ottenuto giustizia, il caso Cucchi ha in qualche modo migliorato... ...e le istituzioni. Questo non glielo so dire, sicuramente... ...migliari, visto che sono due storie che drammaticamente hanno molti elementi in comune. Non ho mai avuto l'offacciata nell'aula, perché appunto, come diceva lei, i processi si svolgevano in contemporanea. C'era tantissima gente, non ho avuto modo di avvicinarmi a loro. E però con il pensiero sono tornata a esattamente 12... ...per ricordare Stefano. Intanto, tra pochissimo, alle 11, saremo in piazzale Aldomoro, di fronte all'Università La Sapienza, con il Rettore e con il Presidente del Municipio. ...del partito di Draghi, Carlo, il mio Marco Carrava, quindi tenore completamente Draghi. Carlo Calenda, ieri, su Repubblica diceva, serve un fronte da Bersani a Giorgetti per Draghi anche dopo il 2023. Allora noi abbiamo deciso di titolare partito per Draghi, sì o no, ci hanno raggiunto per parlarne. L'amore fa miracoli, lei fa miracoli. Grazie no. Eh? Io direi grazie. Il paese è veramente impressionante, non solo del paese, perché lei vende benissimo ovunque. collegato con noi, buongiorno, saluto il professor Marco Revelli, politologo, storico, sociologo. Io? Battuta, no, no. È l'effetto della Marco. Il ruolo la conosco. Lapsus, però, di Draghi, ma anche per Draghi, per, insomma, farlo restare a Palazzo Chigi anche oltre il 2023. Lei come lo vede questo progetto, professor Revelli? Ho reclutato per occupare il vertice. A Bento, a Palazzo Chigi, era già il segno di un fallimento della politica. Sì, l'ho detto, l'ho ripetuta. Di quei partiti vorrebbe che lui restasse, quindi che segno è questo, Lenzi? Beh, Draghi a oltrazza sarebbe un elemento. Allora, i politici in cerca di consegno. Secondo me è il consiglio. Poi al dunque, al dunque, quando si è lì... Sicura, come diceva un po'. Il punto vero è, dopo che hai fatto il governatore della BC. La cara Casati Modignani di Papi, Papi stranieri. Sinistra, il nuovo Berlusconi del centro-destra e, perché no, Draghi, a capo di una coalizione di un partito. Lei lo vede meglio. I pro di Berlusconi, no, lasciate. Tommasi, federatore non solo nel centro-destra in Italia, ma pure in Europa, nel mondo, nel sistema solare. Vicino. Politica, non so niente. Berlusconi che dice Draghi è più utile come premier, forse perché lui vorrebbe andare a Quirinale. No, De Benedetti. Ma perché? Non può essere la politica monetaria. Anche i sondaggi che dissero che scelta civica avrebbe ottenuto, in realtà poi il risultato elettorale fu al di sotto delle aspettative, ma io, proprio a proposito di sondaggi, vi faccio vedere cosa pensano gli italiani del partito di Draghi. Il cartello numero 38, poi dopo lo commentiamo. Alessandra Buccini. Allora, voglio sapere, professore Velli, lei come spiega che gli italiani, c'è la fiducia di Draghi come premier altissima. in assoluto anche nella classifica dei leader e primo in classifica, insomma, con percentuali di... Quei sondaggi sono un po' un trompe l'oeil. A G è per quello poi scese in campo con questa scelta civica che doveva far sfracelli e poi prese l'8% e di lì. Anche che mai dire mai. Cioè, noi escludiamo che, appunto, Draghi possa avere l'aspirazione, l'ambizione di restare gli sia piaciuto. La difficoltà a programmare il proprio futuro, perché dipende appunto dal... Pensi, anche l'astensionismo di questa tornata elettorale, cioè Calenda e rimanere con un tecnico, non sarebbe, insomma, di nuovo un segno di resa. Ma la resa ormai è genco. Insomma, ha una P forse. Ma non votano però rispetto a Monti, per quello io non credo molto a votare delle periferie. Oggi i Cinque Stelle... ...di affidamento però anche a Draghi. Non lo riconoscono nei partiti De Benedetti, ma che compongono la maggioranza, però in Draghi... ...quirinale, se c'è qualcuno al governo in grande... ...Casa Timodignani. Ma la gente non crede più nella politica. ...ri calcoli. Vedo... ...voglia bruciarsi mettendosi in politica. Sono da donna... Ma la politica è senso? Ce l'abbiamo? Allora, intanto ringrazio gli ospiti, è una precisazione finale, perché ieri una nostra ospita ha fatto una battuta che è stata offensiva per i tifosi della Lazio. Quindi ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, ma noi come Agorà ci scusiamo. Ovviamente rimaniamo amici di tutte le tifoserie, di tutte le squadre. A proposito di rimbalzo... ...però io...